Se lei dovesse ritenere possibile che, che, che... Siete molto gentili tutti e due e vi sono grata, ma... Oh, bimba! Oh, bimba! Oh, ciao ragazzi! Che si dice di nuovo nell'ambiente canino? Una sciocchezzuola che ho pescato per te, bimba. Che cosa c'è? Non mi dai più confidenza? Se la presenza di questo individuo la disturba, saremmo lieti di levarglielo dai piedi. Non sarà necessario, grazie. Come vuole, signorina. A starredazzo! Su, andiamo, bimba. Non è stata colpa mia. Credevo che tu mi seguissi a ruota, davvero. E quando ho sentito che eri finita al canile... Oh, non mi parlare di quell'orribile posto. Ero così imbarazzata e spaventata. Oh, coraggio, su. Chi farebbe del male a una cosetta delicata come te? Cosetta, cosetta? A proposito, chi è cosetta? Cosetta? E Lulu, e Fifi, e Rosita Cichitta, la la come si chiama lei? Posso spiegarti? Per quanto mi riguarda, non so che farmene del tuo tallone. Il mio tallone. Non ha bisogno di rifugio e protezione, capisci? se ti distrai non e colpa mia e non mi importa niente se cosa che ti catturano addio e portati via questo grazie